Tempi difficili per la lotta al terrorismo. Il cosiddetto Stato islamico perde terreno ma è capace di cambiare strategia. Non più Iraq o Siria. La guerra si sta spostando in Europa, dove aumentano i casi di radicalizzazione, mentre alcuni foreign fighters ritornano in patria. Per Olivier è necessario un programma di reintegrazione per queste persone. Suo figlio Sean aveva 23 anni quando è partito per la Siria, dove ha trovato la morte. E' una questione delicata perché c'è molta paura a causa degli attentati di Bruxelles di far tornare degli individui che sono potenzialmente pericolosi. Prendo l'esempio di mio figlio, se fosse ancora vivo, che cosa avrei fatto? Lo avrei aiutato in tutti i modi. Secondo fonti ufficiali, circa il 30% dei foreign fighters è tornato in Europa, di questi 119 sono in Belgio. Ma gli investigatori delle forze antiterrorismo assicurano di avere la situazione sotto controllo. Siamo preparati al fatto che stanno tornando, possiamo reagire e fare della prevenzione. Se questi individui tornano in aereo e ne siamo al corrente, se attraversano le frontiere a piedi, sono più difficilmente rintracciabili. Ma ci sono delle operazioni in corso, scambi di informazioni. Ci stiamo lavorando. La minaccia è relativa, ma mai dire mai. Ma far fronte alle nuove sfide nella lotta al terrorismo non è facile, specialmente qui in Belgio, dove allo scarso scambio di informazioni con i servizi di intelligenza stranieri si aggiunge la mancanza di coordinamento tra gli stessi servizi di sicurezza interni, come denunciano i sindacati della Polizia federale. Da mesi le forze di polizia scioperano contro l'insufficienza di mezzi e di risorse umane. Allo Stato attuale si conta uno scoperto di 5.000 uomini. Denunciamo il fatto che il piano di sicurezza nazionale manca di personale. Questo ha un impatto anche sulla gestione delle informazioni. Oggi possiamo dire che le informazioni provenienti da tutti i paesi europei e che transitano presso i centri di polizia e che sono disponibili potrebbero non essere prese in considerazione perché manca il personale. Un anno dopo gli attacchi che hanno colpito la capitale d'Europa, sembra che il Belgio faccia ancora fatica a tenere testa ad un terrorismo che si evolve sempre più in fretta. Non, Polizia federale.